L'aumento dei costi dell'energia si sta abbattendo su tante imprese come un vero e proprio tsunami che rischia di spazzare via in poco tempo aziende costruite con fatica e con impegno nel corso di tanti anni. Confcommercio lancia con forza l'allarme e nel contempo mette sul tavolo proposte concrete per affrontare questa difficile situazione. Sì, oggi usciamo con un video che stiamo diffondendo a livello nazionale. Il messaggio è chiaro, non spegneteci. Il riferimento è ovvio all'aumento indiscriminato che c'è stato sui costi dell'energia ma comunque è un messaggio che vale a 360 gradi. Le aziende del commercio, del turismo, dei servizi, le piccole aziende stanno entrando in un periodo di crisi mai vista che sta portando alla chiusura inderogabile e inricuperabile di una parte importante. Oggi in particolare ci sono dei settori che per la nostra provincia sono fondamentali come quelli del turismo che risentono più di altri proprio del problema della crisi energetica e noi chiediamo a gran voce ora al nuovo governo che sia finalmente insediato e che ora dovrà partire con azioni concrete di intervenire in maniera veloce, inderogabile e decisa con atti concreti perché altrimenti noi rischiamo veramente il collasso ma non solo di settori singoli ma di tutto il settore dell'economia. Particolarmente difficile è la situazione per bar, alberghi e ristoranti. Per tutto il settore del terziario il caro energia incide notevolmente sui costi di gestione. Purtroppo ci siamo trovati con dei costi che erano imprevedibili all'inizio dell'anno. Abbiamo tarato le assunzioni, gli investimenti e tutto quello che concerne la vita di un'attività come un ristorante o un bar su una previsione di costi normali. Ci siamo trovati le bollette triplicate, alcune con cifre veramente importanti. Tutto questo mette in difficoltà il futuro delle nostre aziende che chiediamo alla politica di darci più vicinanza e che chiediamo ai cittadini un po' di comprensione perché i pochi aumenti che porteremo non sono né speculazione né altri giochi ma è semplicemente un tentativo di salvare le nostre piccole aziende e tutti i nostri posti di lavoro.